Il giornalamento del mercoledì della Giallo-Blu-Figlini che vede la formazione del mister Bernini provare a riprendere il cammino giusto per la partita fondamentale, importante, ultima finale contro il Calenzano. Una partita difficile, quella appunto della formazione Rosso-Blu, nel campo della formazione Rosso-Blu, perché insomma adesso veramente i play-out sono troppo vicini alla Giallo-Blu-Figlini. E la vittoria è fondamentale per non arrivare poi a giocarsi tutto il campionato nelle ultime due gare. Ricordiamo poi che la Giallo-Blu-Figlini affronterà ancora in trasferta la Bucinese in un derby dove tutto può succedere, dove a tutte e due potrebbe servire i punti e poi la partita finale in casa con la Castelnovese. Castelnovese, altro derby importante per forse proprio i ragazzi di Dato Sarigucci potrebbero giocarsi, se tutto continua così, il campionato in quella partita lì. Insomma tre punti da fare a tutti i costi domenica a Calenzano. Formazione che comunque ha il morale ancora alto ma deve trovare gli stimoli giusti per non perdere un'ulteriore gara.